Allora benvenuti, quest'oggi è il piacere di proporvi in vendita questo splendido appartamento a Nervi ci troviamo esattamente in via Biasioli, l'esposizione dell'appartamento è un est il riscaldamento è centralizzato, allora entrando abbiamo questa bellissima zona giorno qui usciamo dalla porta finestra e possiamo apprezzare questa splendida vista siamo veramente a due passi dal porticciolo di Nervi, in lontananza vediamo il mare di fronte a noi c'è il monte di Portofino, promontorio, come vi dicevo la zona è servita particolarmente bene questa è una bellissima loggia particolarmente ampia a questo punto rientriamo nell'appartamento e ci dirigiamo verso la camera da letto allora questa è l'unica camera da letto di generose dimensioni anche essa naturalmente dotata della porta finestra dove si rimette in maniera naturale a quello che appunto è il balcone che dire di questi tempi, avere uno spazio così vivibile, godibile fa proprio la differenza quindi continuando con la visita ci dirigiamo ora verso la cucina alla nostra destra abbiamo la cucina vivibile con i suoi spazi usciamo dalla cucina e ci mettiamo in quello che è il bagno con il suo box doccia come si può ben vedere e quindi facendo un riepilogo veloce dell'appartamento abbiamo detto la cucina la zona di ingresso living con questo spazio veramente impeccabile questa bellissima loggia ed infine vi faccio vedere anche la camera da letto e voglio terminare il video appunto dall'affaccio esterno ci troviamo in via Biasioli, Nervi a due passi dal porticiolo di Nervi e dai parchi a due passi dal porticiolo di Nervi e dai parchi